Bellomo calzature per bambini da 0-12 anni, via Cannaviello 86, Avellino. Cartoni, plastica, bottiglie vuote, persino un sediolino. Non si tratta dell'ormai solito ricettacolo di rifiuti a margine delle strade, ma delle aiuole pattumiera, sempre più in base di immondizia, nei giardini di Parco Kennedy. Incivili in azione, ma queste aiuole, sottolinea qualcuno, da tempo sono ridotte in mini discariche. Andrebbero insomma ripulite e protette meglio, magari anche attraverso una più attenta attività di vigilanza. Così come andrebbero messe in sicurezza queste due falle lasciate scoperte dopo la rimozione delle grate, che nonostante la presenza della transinna rappresentano delle pericolose trappole per chi attraversa i giardini del Parco. I cittadini chiedono più maltenzione e anche maggiori controlli. Di sera, soprattutto, avvertono non mancano i balordi che bivaccano tra le panchine abusando di sostanze alcoliche. In un contesto di degrado non possono mancare i mandari che, dopo aver deturpato ampiamente il monumento dei marinai, hanno messo nel mirino la cassetta di vetro, congelato l'affidamento, la struttura e ancora in attesa della svolta.